Il primo rapporto sui corridoi umanitari lanciato in Italia dalla Caritas vuole essere uno strumento che dimostra quanto attraverso vie sicure si possano mettere fuori giochi i trafficanti di esseri umani e si salvino migliaia di vite rendendo servizio all'insieme della società. Ce ne ha parlato Oliviero Forti, responsabile delle politiche migratorie della Caritas. Il corridoio umanitario è una formula che convince anche l'opinione pubblica, sia usa i detrattori dell'immigrazione sia chi si è in qualche modo dichiarato favorevole. È una modalità che in qualche modo dà quel senso di sicurezza a chi deve accogliere e dal lato dà un'opportunità reale di vita a chi arriva nel nostro paese. Con i corridoi umanitari è un lavoro preventivo che viene fatto sia in una fase di selezione nei paesi di transito, sia in Italia nelle comunità che hanno deciso di accogliere. La Chiesa italiana e anche altre Chiese europee stanno sperimentando questa formula con un intento che è quello principalmente di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su un tema strategico, che è quello dell'apertura di canali legali d'ingresso, che potrà essere efficace solo nel momento in cui i governi decideranno, come governi, di aprire attraverso il sistema delle quote o sistemi che permetteranno non a 100, 200, 300 persone, ma a migliaia di persone, garantendo, come dicono i patti globali sull'immigrazione, una mobilità ordinata, sicura per tutti. Oggi purtroppo questo non c'è in Europa. La maggior parte dei migranti attraversano difficoltà estreme, spaventose violazioni dei diritti umani e la crescente minaccia di rimanere intrappolati dalle guerre. Grazie a tutti.